Oggi il mondo LGBT+, ha perso una grande artista, incoronata Miss Drag Queen in Italia il 2020. Stiamo parlando di Penelope Please, scomparsa prematuramente a soli 50 anni. La notizia della sua morte si è diffusa a macchia d'olio su internet già prima del decesso, tanto che gli amici hanno dovuto segnalare su Facebook Marco Marasco. Questo è il vero nome di Penelope Please. Era ancora vivo, circondato dalla compagna, dalla famiglia e dagli amici più cari. Poi, poche ore dopo, ha esalato l'ultimo respiro in questo modo. Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Marco Marascasu, conosciuto non solo con il suo nome d'arte Penelope Please, ma anche nel mondo della droga. Si legge nel comunicato di Archigay Savona Marco era un attivista della comunità L'Chia Più di Savona, Archigay. Era anche membro dell'esecutivo di Savona. Come Penelope Prece, era una figura importante della drag italiana, avendo vinto il concorso Miss Drag qui in Italia a Torre del Lago nel 2020. A Genova e in Liguria partecipava spesso a Serate L'Chia Più e ci faceva ridere. Ci mancheranno le sue trasgressioni, la sua energia esplosiva sul palco e la sua comicità libera e potente. Archigay Savona, Archigay Genova e Archigay Liguria sono con chi l'ha conosciuta e amata in questo momento di profonda tristezza. Addio, Penelope.